Ciao a tutti, benvenuti su TechGaming, in questo video vi spiegherò come funziona l'editor per la modifica delle strade in Animal Crossing Horizon Per prima cosa, come fare per modificare le strade della vostra isola? Dovete completare prima di tutto il gioco Ebbene sì, il gioco ha una fine, tecnicamente, e il gioco finisce quando il cane, musicista praticamente, KK, viene sulla vostra isola a suonare il suo concerto Come fare per far venire il cane sull'isola? Dovete fare praticamente tantissime cose Dovete costruire i negozi e dovete evolverli Dovete costruire qualche ponte, qualche rampa, dovete soddisfare i bisogni degli abitanti Dovete portare più abitanti possibili sull'isola Dovete praticamente esaurire i lotti a disposizione Insomma, c'è davvero molto da fare Una volta che avete, diciamo, fatto tutto E la vostra valutazione, cioè la valutazione dell'isola, ha raggiunto le tre stelline E potete consultarla direttamente dal centro servizi parlando con Fufi Tom Nock inviterà, diciamo, il cane sull'isola, farà il concerto, finirà il gioco E Tom Nock vi ringrazierà con questa applicazione Modifica isola La modifica dell'isola vi permette di creare le strade Oppure pulire la vostra isola da eventuali oggetti indesiderati Consultare il manuale, eccetera A noi interessa più che altro la costruzione delle strade Ora, inizialmente avrete a disposizione soltanto due tipologie di texture Quella classica e la terra Se volete le altre dovete, ovviamente, acquistarle con i miglia Con le miglia, scusate Nel centro servizi La particolarità molto interessante Che io vi consiglio di sbloccare prima di tutto È la possibilità di personalizzare le strade Con un design, diciamo, importato Ora, se andate su usa le miglie di Nock Come potete vedere ci sono diverse licenze Per il selciato, l'arco, il legno, i mattoni, la sabbia, terracotta, sterrata E poi ce n'è un altro che ho acquistato Che è l'unico che mi interessava Che permette di personalizzare la strada con un design Ora, io ho, diciamo, scovato su internet un giapponese Che ha creato il design della strada Ora, se io premo più e vado su questo blocco Che ho acquistato per 2004, mi pare Miglia Posso importare un design da utilizzare sull'asfalto Ora, io ho scaricato dal giapponese tutti questi design per farmi la strada Attualmente, diciamo, sto lavorando su quello classico Quindi il design, diciamo, grigio classico Poi lavorerò sui segnali stradali Comunque, una volta che avete completato il gioco Avete sloccato questa applicazione Per poter, diciamo, introdurre i design Come pavimento sulla vostra isola Dovete, prima di tutto, va bene Andare al centro servizi E acquistare, diciamo, la possibilità di importare design personalizzati Con le miglia Fatto questo, andate nel negozio delle sorelle Ago e Filo E interagite con la tavola Interagiando con la tavola Avete la possibilità di importare un design Se naturalmente conoscete, diciamo, l'id del creatore del design O comunque dell'oggetto che volete scaricare Ripeto, io ho trovato su internet un giapponese che aveva fatto, appunto, le strade Quindi ho digitato il suo id Che adesso non ricordo a memoria Qui E mi è apparso il negozio E ho scaricato, diciamo, tutti i design che vi ho mostrato Quindi una volta che ho finito il gioco Ho sbloccato questo strumento per personalizzare l'isola Ho acquistato, diciamo, il biglietto dal terminale NOC Che mi permette di personalizzare l'isola con un design importato Sono andato in questo negozio Ho, diciamo, scaricato il design del giapponese E a questo punto, come potete vedere Ho, praticamente, reso l'isola O meglio, è ancora in lavorazione tipica giapponese Come funziona? Come vedete, praticamente, applico la texture sull'erba Però non posso applicarla dove ci sono altri elementi Per cui dovete prima fare una bella pulizia di tutto E poi potete applicare, diciamo, le texture Naturalmente non potete usare poi la pala sulla strada Sull'asfalto Ciò significa, quindi, che non avrete nulla che cresca qui Quindi non ci saranno alberi Non ci saranno punti dove scavare, eccetera, eccetera Quindi, poi, aspetta a voi decidere Diventerà un po' come il centro servizi Però, naturalmente, potete collocare i vari elementi Come nel mio caso, io sto, diciamo, creando le strade Quindi sto mettendo i pali Per cancellare, poi, diciamo, una texture Vi basterà eseguire la stessa mossa Praticamente sulla texture che avete installato E la cancellerà Quindi, in questo modo, diciamo, potete personalizzare La vostra isola con strade, terriccio, mattoni ed altro ancora Se questo video vi è servito, cliccate sul pollice in alto Iscrivetevi al canale Per supportare Tech Gaming E per qualsiasi domanda Non esitate a lasciare un commento Grazie a tutti Grazie a tutti